Bella a tutti raga e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 e oggi per i video mattutini delle 11 siamo su The Very Organized Thief ovvero il ladro organizzato, qual è lo scopo del gioco? Io ho già portato questo giochino sul canale lo scopo del gioco è che noi siamo all'interno di una casa, abbiamo una lista di cose da rubare e le dobbiamo rubare prima che torni il proprietario di casa perché appena torna il proprietario di casa ci picchia in una maniera paurosa quindi non perdiamo tempo, partiamo subito con il giochino tanto carino tanto carino e vediamo un attimo, io non ricordo assolutamente niente dei tasti però qualcosa riusciremo a farla ok siamo all'interno della casa, qui vediamo dei quadri molto emotivi qui il primo bacio, qui il primo figlio, qui la vittoria di un gol allora aspettate, press shift to corri, ok così possiamo correre come si pigliano le cose, no così accendo e chiudo, Q per la lista, Q, 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 Q per la lista ok abbiamo la statua, un vino raro, ok un vino raro, painting, ok questo mi può servire pick up come si piglia, pick up come cazzo la si piglia, ok no questa non mi serve allora in teoria quando le serve qualcosa lui se la mette direttamente in zaccoccia allora veloce, 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 leva la lista, leva la lista, questo ti serve, no il telefono non ci serve buttalo via, la playstation, si la console ci serviva, la console ci serviva qua sono dei soldi, 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 sopra qua c'è niente dobbiamo essere veloci, signorimi, open, open, dobbiamo essere veloci accendi la luce, accendi la luce, questo non è il vino raro, la tazza per fare il tè, no la padella, no, il microonde, il microonde, non lo vuole il microonde il frigorifero penso sia troppo pesante da portarci il vino raro, il vino raro quale sarebbe? il vino raro, non è che può, soldi, 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 una chiave, oh una chiave, una chiave, mi ho trovato una chiave raga questo è il vino interessante, no no, spascia tutte cose, apri, apri, apri mi porto il vino dietro, apri, 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 calma, calma, calma raga, calma 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 andiamo di qua, andiamo di qua, qua c'è qualcosa di interessante, vuoi un pomodoro, no la bottiglia non è questa, via, 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 via di qua c'è qualcosa, di qua c'è qualcosa Dove cazzarola sono tutte le cose, dove le tengono le cose in questa casa, mannaggia di una pupazza Dai dai dai, apri, 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 apri Qua siamo tornati in cucina, via, 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 via Dove si sale sopra? Saliamo sopra, saliamo sopra, saliamo sopra Fino ad abbiamo trovato semplicemente la Playstation, ovviamente Che per quanto posso capire sia importante Allora, nel bagno, nel bagno, nel bagno Qua, questo no, aspetta, calma, calma, calma Qua c'è qualcosa, soldi, soldi, pia, sì, soldi, zio Pille, soldi Questo è il gabinetto, non ci interessa Questo è il gabinetto, pick up, il sapone Cazzarola, sta suonando l'ora, sta suonando l'ora Tra un poco torna, tra un poco torna il tizio Signore, il computer, il computer non lo vuole Cazzarola, dobbiamo rubare se non vuole neanche il computer Il lettore di VD no Open, questo no, questo no Qui non c'è niente Cabina armadio, c'è qualcosa di interessante No, cabina armadio non c'è niente Non mi dici che sta tornando già il tizio, raga Perché se no siamo veramente nella cacca Oh, l'anello, l'anello, non ti serve manco l'anello Ma che cosa dobbiamo rubare? Oh, soldi, 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 soldi Buono, buono, ne pigliamo questi Dai, 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 cabina armadio non c'è niente Ma mi ridai un attimo una lista Chitarra, quadro Pocket watch, gold bar, barra d'oro Soldi, soldi, va bene Stanno andando bene, stanno andando bene Qui, no, il comodino mi ha preso tutto il comodino Non lo voglio tutto il comodino Non lo voglio tutto il comodino Va bene, via, 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 via Di qua non abbiamo trovato niente Chiudi questa porta Dai, 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 via, 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 via Corri, 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 zio, corri, zio Corri, zio, allora, di qua Le cuffie, no Il computer, no Quest'altro computer, no Il mouse, la tastiera, no Vabbè, questi oramai li trovi ovunque Oh, il codice, un codice 7279, ok 7279 7279, ricordiamoci 7279 Qua c'è qualcosa di interessante Soldi, PS 7279 7279, raga 7279 Soldi, 7279 Questi tengono le banconote sulla scrivania Ma ce ne vuole 7279 Oh, perfetto Abbiamo trovato Abbiamo trovato La La cipolla Abbiamo trovato la cipolla Abbiamo trovato la cipolla Qui non c'è nulla Qui chiude No, è tornato È tornato il padre È tornato il padre È tornato il padre Sette Dov'è, cazzarole Sette Scappare Veloci, veloci, veloci No, non abbiamo trovato niente di quello che dovevamo cercare Vediamo se qua in garage c'è qualcosa di interessante Vediamo se qua in garage c'è qualcosa di interessante Questo non ci serve Soldi, soldi Questo è il vaso Aia, aia Raga, ve l'ho detto che questo picchiava Questo picchiava E' brutto Questo picchia pesantemente Questo picchia bruttissimo Aia, aia, aia Aia, aia, aia Perché questo è il vaso Dove sta il vaso? No, no Siamo morti Siamo morti, raga Siamo morti E non abbiamo portato nemmeno il bottino a casa Posso rivedere la lista? No, perfetto Mannaggia Ma la pupazza Come picchia questo Come picchia questo È una cosa paurosa Allora, stiamo calmi Riproviamoci, raga Riproviamoci Allora, per scappare Noi dobbiamo andare nel garage Dove eravamo prima E andare sulla porta E io ho sbagliato Perché dovevo andare direttamente lì sulla porta Allora Space Space to Retri Riproviamo, raga Riproviamo Riproviamo Questa era di prova Questa era di prova Allora, veloce, veloce Vediamo la lista Barbecue Vaso Pocket Watch Diamond Ring Micronde Microwave Che è il DVD player Ok, 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 ok Ci siamo, ci siamo Questa volta sono più preparato Allora E dove cazzarola è il DVD player? Perché non c'è il DVD player qua? Ma porca Banganote, banganote Pia, pia, pia Vediamo quanto riusciamo a fare in questa puntata Cosa c'è qui? La chiave, la chiave Questa chiave è cosa cazzarola? Prima la porta di sopra se non sbaglio Il microonde, il microonde, il microonde Pia, il microonde Ok, il microonde ce l'abbiamo Poi, poi, poi Che cosa voleva? Il DVD player Vediamo il ring Sarà sicuramente sopra Il barbecue Mi sono bloccato da qualche parte Apri, apri, apri Apri Il barbecue Il barbecue Do sta il barbecue Il barbecue Come fai a portarti il barbecue, zio? Take a barbecue Non so dove se lo sia messo il barbecue Ragazzi, non mi interessa in questo preciso istante Allora, dai, dai, dai Sali, sali, sali Allora, qui abbiamo detto che non c'è una cippa di nulla L'orologio te lo vuoi portare per casa? No L'orologio non ce lo portiamo Dovevo fare una telefonata a casa? No Il vaso Uh, abbiamo trovato pure il vaso Bella, raga Stiamo trovando tutto Stiamo trovando tutto Via, via, via Sali sopra, sali sopra, sali sopra Sali sopra, sali sopra Sali sopra La vuoi? No Il porta spazzolini? No, nemmeno Qua dietro c'è niente? No Mi sembra di no Andiamo di qua, andiamo di qua Dai, dai, dai Dobbiamo trovare il codice, raga Prima di tutto Dobbiamo trovare il codice Anche se non mi ha detto E lei, fammi prendere questi soldi Anche se non parlava di Qua c'è il porta gioie Il porta gioie lo vuoi? La sveglietta? No Salta, salta Zio, devi levare tutta questa roba Ho spostato anche il letto? No Va bene, ok Qui dovrebbe esserci la cassaforta Ma non abbiamo ancora il codice Non abbiamo ancora il codice Entra qui No, ce l'ho la chiave per aprire questa porta Apri questa cazzola di porta pick up No, le cuffie Computer Computer questo No, devo trovare ancora il lettore DVD, raga Devo trovare ancora il lettore DVD Codice Il codice 3832 Va bene 3832 Qua sopra c'è niente Soldi, soldi, soldi 3832, raga 3832 3832 38 38 38 Che cazzarola 38 32 Bella così Apri la, apri la, apri la Dai, dai, dai Apri la, apri la, apri la Apri la, apri la, apri la Pocket watch Gold bar DVD player Dai, apri la Mannaggia a me che sto scemo Dai, dai, dai Pia, pia Pia, tutto, pia, tutto, pia Tutto, pia, tutto, pia Tu stavamo fatto il botto, raga M'ho fatto il botto E mezzanotte E mezzanotte Quello tra un poco torna Quello tra un poco torna La chitarra Questa onda Inserviva prima la chitarra Mannaggia a te Mannaggia Il DVD player DVD player DVD player La playstation No, la playstation stavolta non vuole giocare Chiudi questo Chiudi questo Cosa rimaneva nella lista? Pocket watch Kettler Che cos'è il Kettler, raga? Che cazzo non è il Kettler? No, è tornato il tizio È tornato il tizio È tornato il tizio Siamo messi male Siamo messi male È tornato il tizio Cos'è il Kettler, raga? Questa non lo vuole Questo? C'è niente? No Soldi, 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 soldi Soldi, soldi Pia, 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 quei soldi Chiudi, chiudi, chiudi Spegni la luce Spegni la luce, raga Voi in questo momento non vedete niente Quindi devo per forza Tenere la luce accesa Stiamo calmi, stiamo calmi Stiamo calmi, stiamo calmi Allora, dobbiamo riuscire a raggiungere Dobbiamo riuscire a raggiungere, raga, il garage Stavolta voglio scappare Stavolta voglio scappare Veloce, veloce, veloce Che cazzo è? Un canguro No, 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 no È spawnato il canguro, raga È spawnato il canguro picchiatore Questa volta non abbiamo il padrone di casa Ma abbiamo il canguro picchiatore Aia, aia, aia Perché non scappi? Corri via Dobbiamo cercare il garage Il garage, il garage, il garage Facciamo il tripling dei mobiletti Il garage, il garage, il garage, il garage, il garage Di qua, di qua Uh, siamo riusciti a scappare, raga Allora, abbiamo fatto 37.512, signori miei Allora, io mi segno questo record 37.512 Da questo noi dovremmo ripartire, signori miei 37.512 Per cercare in qualche altro episodio Se il game vi è piaciuto Di migliorare questo Questo, diciamo Obiettivo che abbiamo raggiunto Detto questo, ragazzi Vi ringrazio per la visione Vi ringrazio per i like E per i commenti Noi ci vediamo Alle 2.30 Per la prima live della giornata Detto questo Bella raga Ciao 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 Ciao